Mi dici cosa fai con i 500 video che tieni qui dentro? Mi alleno per fare l'influencer. Per divertimento, intendi? No, di lavoro. Ragazzi, cosa devo fare per farvi stare un'ora senza telefono? Vi devo dare il metadone? Dio, sei un accorso! Ma la sua età è normale fare il contrario di quello che dicono i genitori? La ragazzina mi ha taggato in un video. L'influencer come quella di Leonora sono fuffa mischiata con niente, sono il prodotto peggiore di un'epoca che sta andando alla deriva. Ma che andassero a lavorare! Verba bolant, ma social moment. Facciamo vedere a questo padre trombone che siamo molto peggio di quello che crede. Viva gli influencer! Praticamente sei un influencer senza nemmeno avere il profilo. Anti-influencer. Ti faccio da social media manager. Secondo me io ti insieme, spacchiamo. Vuole farla con noi? Io sono d'accordo col professore. Forse il problema non è il telefono, perché stai diventando grande. O forse sei tu che mi tratti ancora come una bambina. Gesù, padre trombone! Cosa fa, signora? E monisco la protesta, no?